Ciao ragazze, oggi sono qui per mostrarvi i prodotti della Ibroshé che mi sono arrivati per le mie clienti. Allora, prima di iniziare voglio dirvi che ci mancano alcuni prodotti, perché il mio pacco mi è arrivato venerdì mattina e alcune cose già se le sono prese dai miei clienti e quindi poi metterò le foto alla fine del video. Allora, iniziamo subito. Il primo prodotto è questa maschera per capelli secchi alla vena. Poi, un'altra maschera per capelli secchi o crispy all'olio di jojoba e calitì. Poi c'è il gel detergente per il viso della linea Hydra Vegetal. Poi c'è un tonico, sempre della linea Hydra Vegetal. Poi, il latte detergente per pelli normali e secchi della linea Hydra Vegetal. Poi troviamo questo struccante occhi bifasico all'acqua di fior d'aliso bio e poi troviamo questa maschera scrub all'albicocca, cioè alla frutta. No, scusate, è uno scrub viso al nocciolo di albicocca, sì, al nocciolo di albicocca. Scusate, ho fatto un casino per dire albicocca, ok, ce la puoi fare. Poi, infine, troviamo un burro cacao al burro di caritì, uno alla mandorla dolce e un altro al cocco. Poi, infine, troviamo due matite occhi della color nature, ed è una nella colorazione antracide, sarebbe un grigio, e l'altra nella colorazione blu. E questi sono i prodotti. Poi è arrivato anche il nuovo album, l'album numero 4, che vi farò poi o un video a parte dove vi mostrerò tutte le offerte, oppure vi metterò l'album online sul mio blog, vi metto il link giù nell'info box per andare al mio blog, dove lo potete sfogliare voi. E vi metterò alcune immagini di qualche offerta più conveniente. E ragazzi, io volevo dire, mi sono presa, per me, anche io, questi tre prodotti, tonico, latte detergente e gel detergente. Questi prodotti, appena li proverò, vi farò una review, così vi farò sapere come mi sono trovata. E niente ragazzi, questo è tutto quello che volevo mostrarvi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un grosso bacio e vi lascio al prossimo tutorial. Ciao! Ciao!